ciao fragoline nuovo video un po diverso credo da tutti perché nessuno l'avrà fatto questo video detto che volevo fare un video molto diverso volevo farvi vedere la mia collezione di hello kitty quando ero piccolina che avevo 15 anni in giù praticamente adesso mi ricordo più o meno però ero piccola ovviamente la mia collezione non dico che è finita ma mi piace ancora hello kitty però prima di iniziarvi di farvi vedere la mia collezione di quello che ho di hello kitty vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così non vi perdete neanche un solo video lasciarmi un like e ovviamente se volete vi lascio il mio instagram qui sotto in tutti i video e sia qua detto questo fatemi sapere se anche voi da piccoli ovviamente vi piaceva hello kitty e in più se anche voi compravate qualcosa di hello kitty io da piccola ero pazza anche adesso se lo vedo ovviamente mi piace ma è come se è la stessa cosa come topolino e altri diciamo personaggi per cui però sono curiosa di sapere se anche voi in poche parole mi piace hello kitty e se anche voi avete qualcosa di hello kitty fatemelo sapere qua sotto io adesso vi faccio vedere che cosa ho iniziamo da questo come avete visto allora questo è un porta foto che ce l'ho ancora nuovo e talmente mi piace che troppo bello lo praticamente lo lo tengo nella vetrata piccolina e è bellissimo perché è fatto così mettete qua la foto ovviamente io non l'ho messa perché si qua mettete la foto io non l'ho messa l'ho lasciato così perché mi piaceva di più poi vabbè quando avrò la casa nuova giustamente metterò la foto però per il momento l'ho lasciato così perché è troppo bello e in più all'etichetta non mi ricordo quanto l'ho pagato perché sono passati tanti anni e in più non mi ricordo se l'avevo vinto oppure se l'avevo comprato comunque questo è il primo poi ho le penne di hello kitty di hello kitty una rossa e una blu sono fatte così adesso le faccio vedere sperando che si vedano da vicino non so se sono l'incontrario ok sono fatte così molto molto belle una blu e una praticamente rossa e blu così sono carine queste qua se non sbaglio lo vinte non mi ricordo comunque ho queste poi questo invece è l'anello e se vedete piccolino troppo bello carino ovviamente mi ci sta solo in un tipo così poche parole mi ci sta solo qua e basta anche perché era è molto piccolo comunque è carino e ho l'anello fatto così molto bello poi ho questo stuccino rosa con la faccia di aluiti che puoi appenderlo astuccino in senso che un portamonete più o meno si è da un bel po che che ce l'ho ma no questo qua dentro perché avevo messo qualcosa dentro però è fatto così molto bello questo dovrei averlo vinto luna park se non mi sbaglio fatto così poi o questo stuccio ancora con l'etichetta perché talmente bello che io non l'ho mai usato e cioè ho anche le mollette non so se si vedono ci sono le mollette che sono bellissime e poi l'astuccio ecco lì è carino perché ci sta dentro di tutto non l'ho mai usato infatti se vedete è nuovo ma nuovo ed è carinissimo carinissimo perché cioè guai a quando ero quando andavo a luna park quando andavo in giro che vedevo queste cose qua cioè ero una pazza in poche parole anche perché se non mi sbaglio l'ho comprato ho comprato anche una cosa adesso vi farò vedere quello che ho comprato ero al mare non mi ricordo se ero in sardegna o a rimini non mi ricordo però quando ho visto questa borsa io mi sono innamorata perché l'ho vista costava tanto se non mi sbaglio costava 60 euro all'inizio infatti l'ho usata poco perché a me piacevano queste borse piaceva anche come era fatta al fiocchettino qui infatti è rotta come vedete perché l'ho usata quando andavo in giro me la portavo ed era troppo bella solo che talmente bella che non è rotta tutta non è consumata tanto e loro ho deciso di tenerla anche per ricordo praticamente questa me l'aveva comprata mio padre perché io l'avevo vista nella vetrina ero pazza la volevo a tutti i costi e allora tutte le volte rompevo le scatole a mio padre mio padre poi alla fine non ne poteva più e me l'ha comprata e ovviamente è costata 60 euro è molto molto bella è spaziosa adesso vi faccio vedere anche dentro c'è la taschina qui ah no è rotta adesso mi sono accorta è rotta dentro però vabbè chi se ne frega tanto non la uso più non vado più in giro con ovviamente le borse di yellow kitty perché ormai sono grande per cui diciamo diciamo che la tengo più ricordo per cui a me non me ne frega se è rotta per cui comunque è molto bella perché c'è anche questo qui e è molto carina perché è fatta così col fiocchettino poi passiamo un'altra borsa che che è questa che anche questa qua era troppo bella bellissimo fatto così c'è la tracolla a questo qui che molto carino e dentro è bella spaziosa adesso non ho più più le cose no questa però non è rotta sì l'ho usata anche questa un po però non è rotta anche questa è bella spaziosa ovviamente dentro è tutto di yellow kitty a forma di yellow kitty e dato che sono troppo belle perché me ne fanno impazzire adesso li tengo nel sacchetto adesso li tengo nel sacchetto perché così a meno non si sporcano non si rompono poi ovviamente li metterò su un armadio in cui mi resteranno per ricordo perché è troppo bello ed è fatta così con la scritta di yellow kitty l'ultima borsa perché io ho tre borse e dato che se ne vedevo altri giuro che ne prendevo altri però va bene ne ho presi solo tre questa invece è fatta così praticamente a la faccia di yellow kitty dietro alla scritta di yellow kitty e ha praticamente il coricino che voi lo aprite anche questa è bella spaziosa ma questo qua mi sembra che non l'ho mai usata lo solo presa perché mi piaceva troppo adesso lo faccio vedere bene che è praticamente così è bella spaziosa infatti è sporca perché lasciandola si sporca comunque questo praticamente nuova mai usata infatti se vedete cioè è nuovissima e niente queste praticamente le mie borse di collezioni di bellocchetti quando ero piccola l'età avanza e giustamente andare in giro così non è che sembra tanto il caso però vabbè c'è chi ha 40 anni e va con la maglietta di topolino per farvi capire per cui non ovviamente non è un'offesa perché però perché c'è gente che dice ma hai un tot di anni e va in giro con queste cose qui capito allora ho specificato che non sono l'unica che va praticamente in giro ma ci sono anche altre persone oltre i 40 anni che hanno la maglietta di topolino eccetera anche io ovviamente ho la maglietta di topolino della disney eccetera e sinceramente non è che ho da dire però sono grande queste cose non vanno messe no non è vero non ha età a mettere praticamente queste cose qua anche i cartoni robe varie dei bambini tutto qua volevo precisare queste cose qua niente spero che questo video un po' speciale un po' diverso vi è piaciuto fatemi sapere se anche voi conoscete lo kitty se anche voi avete acquistato qualcosina fatemelo sapere qui sotto e dato che non ho mai fatto questo video e volevo farlo un po' diverso non so quante volte l'ho detto comunque spero che il video vi sia piaciuto veramente detto questo ci vediamo al prossimo video fatemi sapere se volete tipo queste tipologie di video dove vi faccio vedere quando ero piccola di quello che avevo fatemelo sapere qui sotto che secondo me è anche una bella idea secondo me ovviamente se ne parlerà forse l'anno prossimo perché ora che io sto caricando un casino di video li sto registrando eccetera per cui ora che faccio tutte le vostre richieste ce ne vuole un bel po' comunque vabbè io ve li chiedo poi non so ditemi voi niente detto questo ci vediamo al prossimo video ciao